Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo gioco che mi hanno dato, si chiama A Long Way Down. Allora ragazzi, questo gioco qua intanto è uscito il 16 gennaio, ok? Ed era Plug in Digital, Moog & Creation, Maple Whispering Limited e Goblins Studio come editore e come sviluppatore Synapses Studio. Allora, il gioco tra ispirazioni e successi come Darkest Dungeons, Raid Spire e End of Fate. Una lunga discesa è un miscuglio tra un gioco di ruolo e un gioco di costruzione del mazzo. Incarna Sam e prova a fuggire da questo labirinto, dove regna una mente subdole e malvagia. Lascia che i tuoi ricordi e le tue scelte ti guidino, ma non cadere nell'oscurità. Crea un mazzo, le carte che scegli determina il modo in cui tu esplori il sotterrano e come ti difedi dagli orari che contiene. Fatti stare attraverso il labirinto, molto spietato. Grandi sfide ti aspettano mentre vai in profondità nella prigione. Usa le tue carte e l'astuzia adattata al tuo stile di gioco e supera tutti i nemici. Raduna la tua festa. Incontrai molti altri avventurieri nell'oscurità. Guadagnerai alleati o diventano nemici. Attraversa il labirinto. Usa le tue carte per colmare le lacune e sfidare i vicoli ciechi mentre viaggia attraverso il labirinto. Corri per fuggire o prenditi del tempo per esplorare la tua scelta. Aggiorna i tuoi articoli e attrezzature. Raccogli i premi e usali per accrescere il tuo potere ed assumere ciò che si trova nelle profondità. E combattere probabilmente quello che si trova nelle profondità. A fronte al devorico sovrano ogni scelta effettuata influenzerà la battaglia finale. Riuscirà a sconfiggere la mente nella sua tana? Ok ragazzi, proviamo un pochettino. Intanto il gioco è in inglese. Lo potete trovare a 14,99€ su Steam naturalmente. E ora ragazzi, naturalmente, vediamo un po' com'è il gioco. Perché adesso sono molto curioso di vedere come sarà questo gioco qua. Quindi, bando alle ciance e iniziamo. Vabbè ragazzi, qua intanto c'è la parte naturalmente in inglese. Il gioco è in inglese, quindi ve lo avevo detto. Questa è la parte naturalmente in inglese. Ora, proviamo a provare a guidare te in limbo. Il spirito mi ha detto che alcune scelte scelte perché di un complizzo. L'ho convinto a uscire qualche arma e portarli a te. Cards. Riconosci le scelte. Usa una simile. Potresti essere capito di affrontare le scelte scelte come abbiamo fatto quando ti arrivi. But you will to eat while looking them straining in the eyes. Papalagda, watch over me. Ok, vediamo. Vediamo, vediamo ragazzi. L'audio era altissimo prima comunque. Tutorial. Ok. Come usare le carte. Attenzione, escape the dungeon. Ok. Try to find some cover this place isn't safe. Who knows what will happen if you were cucked by lost soul. Ok. Quindi? Pile of slab. Cos'è? Falen King. The Falen King can curse its prey. What they call? This car can shape the world around you. Ok. Ah, devo creare una maniera per scappare da questo mondo. Aspettate un attimo, fate un po' vedere. Ok. Quindi immagino di dover mettere questo qua. Sono tipo delle tessere. Ok. Mi sa che combattimento adesso, ragazzi. Eeeh, che figata. Fight. Ok. Player turn. Che figo. Una pala con uno scheletto dentro. Tocca a noi, forse. Allora. Basic spell common. Linked to point stick. Deal 10 damage to the target. In modo target blessing. Ah, ok. Che sarebbe la dover blessing. Dovrebbe essere i... Quando ci fanno, tipo, dei poteri contro, che ci rimangono. Tipo curso o altro. In modo target curso e restore 3%. Ok, questo qua era curso, scusate. Questo qui, quindi, è tutti i cambiamenti di stato. Ci ristora 10. Quindi 20 damage to the target, ok. Dove fare su 2? Ok. Ottimo. Ah, ok. Vedete qua la vita? 250 o 150? 60 di 80. Ok. Ma quante volte possiamo attaccare? Non c'è scritto. Va bene, apriamo così. Altri 10 l'abbiamo fatti. E posso fare ancora? Ah, mi sa che erano quelle 3 stelline che c'erano qua. Sapete? Ciò che potevamo fare. Ok. Mentre target defense during 3 turni. Ok. Qua praticamente ci siamo potenziati la difesa. Allora. Io andrei di nuovo di danno. E ancora di danno. Ok. Così è rimasto 20. Ci fa danno anche lui. E aumenta la sua difesa. Ok. Quindi ad ogni turno noi comunque tiriamo su. Curiamoci. Attack by the 2 turni. Vai, danno. Qua vedete che abbiamo potenziate sia il danno che la difesa. Per il momento. Oh, bella. Questa facciamo male. Vittoria. Reward. Blessed attack. Deal 20 damage. To the target. Incrementa il cast attack del 15% per 2 turni. Ottimo. Bella è ste carte, ragazzi. You can retrieve the card dropped by lost soul. And add them to your deck on the appropriate altar. Ok. Quindi passiamo ad andare tranquilli. Qualche cosa ci sarebbe. Andiamo qua. Battledack. Questo è quello che abbiamo nella bag. Ok. I see another soul near you. It doesn't summon still. Try to parli with it. You have the same goal. Maybe you can join force. But io volevo andare a vedere qua. Haha. È un casino passare in alcuni punti, ragazzi. Qua non possiamo passare, ad esempio. Forse passando per, aspettate, potrei un po' vedere com'è la strada, va. Fermi un secondo. Aspetta. Dove dobbiamo andare laggiù. Ok. Quindi in realtà dovremmo andare giù di qua, dovremmo andare. Però qua è chiuso. Quindi sarebbe meglio andare giù di qua. Proviamo a far così. Ah, giù di qua non ci va. Però qua, attenzione, qua possiamo accedervi. Quindi andiamo fin qua. Vai, vai fin qua. Hey, you lost two? Completedly. Marcus. Funny Chloe, where are you from? Roman Gaul, Aquitania. So vaguely familiar, but being up. You are from Africa? Almost. And yet we have no difficulty in understanding one another. The afterlife take from the convergent to the soul that crosses. That voice. Is that lettuce good or that? I'm dead? Yes, we are both dead. But the voice you can hear in the voice of the one who is performing my funeral rites. She can speak to the dead, as Ions could. Ah, ok. Abbiamo preso l'ernetto, ottimo. Okissimo. Quindi adesso abbiamo anche Marcus con noi. Here you are. You are the one who has my card. I truly alone could use them. If you will, pay to price for missing with the dungeon master. Ci ha tolto una carta. Ah no, aspetta. That guy using my card against me. Mabry. I think he's the one the spirit stole them from. Get behind me, Africa. I have a full barbarian giant of my life. A bag of bone won't intimidate me. Ah, ok. Quindi combattiamo adesso di nuovo. Però è figo. Sembra un pochettino Yu-Gi-Oh, ragazzi. C'è un po' di Yu-Gi-Oh. Ahia. Sì, è molto. Adesso è Darkest Dungeon. Little help would be a prey cheat. Stay back and let me fight. Ah, ok. Aspetta. Ah, devo per forza prima attaccare con lui. Ok. Facciamo prima con lui che facciamo così. Ok. Poi andrei su di lui. Non posso andare su di lui. No. Ah, ok. Allora facciamo così. Fai danno così. E fai danno così. Scusate, è caduto. Sono cadute le cose che tengo dalle cuffie. Perché purtroppo ho le cuffie scariche. Ah, poi abbiamo più poteri? Sì, attenzione. Infatti ne abbiamo qua. No, ma prima ne avevamo 3 o 4. Non mi ricordo. Adesso vediamo. Allora. Heal lui. Ah, maledetto. Ci ha fatto anche danno di stato. Che danno è questo qua? Non ce lo fa vedere. Power. Allora. Remove all target blessing. Vai. Perché? Ah, è solamente sugli altri. Ok. Perfetto. E io andrei di armor blessing su lui. Ah, posso ancora attaccare? Vai. Ottimo. Però abbiamo finito le carte adesso, ragazze. Attenzione. Incrementiamo la difesa. Vai di danno. E vai di danno. E incrementiamo l'attacco. Ahia. Maledetto. Ok, queste qua ci abbiamo continuative, che sono gli attacchi. Ottimo. Battuto. E abbiamo vinto. Call for protection. E powder. Ok. Vini, vidi e Julius. Codont have done any better. Some you have found some powder. You can upgrade your card like it. E talk to you. Use the altar right in front of you. Ah, per potenziare le carte. Vediamo. Ok. Va bene. Adesso però non ce l'ho più perché ce l'ho zero. Wow, you look like you know what you are doing. Why are you a priest? Something like that. Mercury repraised by I'm sticking to you like a magistrate to a buffet. Ok. Allora, qua possiamo intanto far questo e ci prendiamo altre carte. Giusto? Sì. Per 9 zone. Ottimo. E qua perché ci fanno andare fin qua? Forse perché qua dobbiamo rompere? Oh, timore. Vedi che basta capirci un secondo. Ok, allora intanto metterai questo come cosa. Queste cose qua non posso mai indossarle. No, infatti. Proviamo un po' a vedere se per caso Marcus le può indossare, ma non penso. Infatti non puoi indossarle queste qua. Ma se io provassi per dire rompere questo. No? No perché si romperebbe proprio tutto. Ok, ho capito, forse. Ottimo. Allora, intanto facciamo così. Guardalo, guardalo che maledetto. Il tipo che ci cambia le cose, le carte in tavola. Ho altre cose, ottimo. Allora, intanto farei così. Così ne vado a prendere la... Ma guardalo, guardalo che ce li toglie. Ok. Prendiamo di nuovo tutto. Oh, e vai. Allora, io farei così intanto. Dove mi ha messo? Così, a puffo. Vabbè. Fammi... Ok, c'è un nemico. Vai. Vi farò vedere, penso, solo il primo dungeon, però. Mi sta già piacendo il gioco. Nonostante sia in inglese. Allora, due attacchi. Quindi facciamo così. Uno. E due. Quindi uno. E due. Ah, pensavo andasse lui, sinceramente. Maledetto. Ah, ma vedete che non si curano però i personaggi. Quindi sarà meglio curarli man mano. Allora, remove target course. Incrementa la difesa. E vai giù secco. E vai giù secco. Bala lì. Battuto. Allora, abbiamo trovato l'iron helmet e powder. L'iron helmet, secondo me, possiamo metterlo lui. Inventory. Ok, no bag. Non posso metterlo... Eh. Devo forza indossare gli oggetti quando sono lì. Pertanto un secondo. Allora, lui. Vai qua. I even be to Africa. Me neither I was born to the Americans. Allora, tu. Vai qua. Never heard of them. Must be in Asia. Ok. Allora, questo qua, secondo me, lo possiamo mettere a lui. Cosa cambia da questo all'altro? Questo fa 5. E questo fa 5 più 5. Sì, ok. Va benissimo. Perfetto. Tanto sto qua continuo a mettere oggetti. Allora, vai fin lì. Ok, al massimo dove possiamo arrivare ho già capito che è dove vedo il puntino. Uh, 50 di cosa? Beh, naturalmente, ragazzi, lì lo mettono uno, 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 uno. Cioè, vado a combattere, ovvio. Vai. Ovvio che sì. C'è anche la tipa lì che posso combattere, secondo voi? Eccolo. Perfetto. Combattimento. Allora, un consiglio che vi posso dare, ragazzi, è... Fate... Se riusciti i danni, ho detto a rimuovere il talcurs. Ok. Potenziatevi prima. Tipo, incrementa l'attacco del target. Fai con questo. E vai giù secco. Ok. Vedete che già abbiamo fatto un casino di danno? Allora, tocca a lui. Ah, lui non me lo fa utilizzare, però. Che strano. Ok. Lui... Ivy Bowel. Vediamo un po'. Wow. Fa malissimo. Quindi potete targettare a seconda di chi volete usare. Potete usare il target... Mettere il target chi volete. Aspetta un secondo che voglio vedere se per caso posso andare in riterativa. Allora, aspetta. Facciamo una cosa a furba. Aspettate. Perché poi ho paura di non riuscire ad accedere... Al... Posto. Quindi facciamo... Così. Aspetta. Così. Se è un poco stronzetto, tipo, io te lo dico. Anzi, andiamo qua. E facciamo così. E facciamo così. Ok. Tecnicamente abbiamo concluso, però vorrei capire... Se c'è qualcos'altro che non abbiamo preso. Perché... No. Direi che abbiamo preso tutto. Vai. Scappiamo dal dungeon. Reward. Magical chapter. Ah, ottimo. Dungeon master. You may have some nift spell up your sleeve. But that worry you without your legendary. African. No, non abbiamo più lui. Sam's still there. Good. I think you were alone. More or less. You were born to a black mother and a no father. Listen to the song of the surcain workers. You were fixed, mixed, scusate, race. Amongst the black thersely for revenge. You were the weakest. I've suffering shape people. You were the most perfect of all. The ideal fertile ground for a life of conflict. Attenzione. Damballas chamber 1. Ok. You're ok? Not great. Take your time to prepare yourself before you're continuing. To head the pier into limbo. Step on the green slab. Ok. Ok, ok. Allora, questo qui ha 50 di vita e 20 di difesa. Questo qua, boh, fa solo a più decidi danno. Ah, questo qui c'è anche 15 di danno in più sul vento e fa da 10 a 20 di difesa sul target, quindi vai tranquillo. E questo qui, naturalmente, è questo qui. E questo qui, naturalmente, anche, che fa più danno. Ok. Ok. Defensive attack. Queste qua dove posso mettere? Forse qua? Ok. Che è un nuovo potere. Direi che boh, abbiamo tutto, tecnicamente. Queste cosa sono? Available card. Ah, per fare gli upgrade. Vabbè, ma... Costano troppo gli upgrade al momento. Available card. Ah, ok. Posso proprio buttarli? Romperli? Ah, questo è interessante. Aspettate. Questo sì. Perché no? Ah, ok. Scusate, per pregradare. Non avevo capito male io. Ok, va bene. Beh. Questo dove va? Niente. Cos'è questo? Ah, ok. Il nuovo dungeon. Kill the monster mini paros. I see something ahead which block your path. You will have to defeat this lost soul in order to continue. Allora, ragazzi. Visto che mi sa che è ancora lungo e sono già 22 minuti, non vorrei farvi troppo. Questo game qua, sinceramente, mi piacerebbe continuarvelo. Quindi adesso vedo un secondo come salvare. Che penso si salvi. Option. Give up. No, direi che non si salva da qua. Return of the starting eyes and your current dungeon run will be lost. Ah, ok. Sarà... Vabbè, continua, dai. Allora, detto questo, ragazzuoli. Sì, infatti, perché comunque ve lo fa resettare. Li porta a zero di nuovo. Ok. Return to where you have been before. Vabbè. Allora, ragazzi. Il gioco, sinceramente, mi sta piacendo molto. Molto interessante. Voi che cosa ne pensate? Allora, il gioco, comunque, lo trovate a 14,99€ su Steam. Sinceramente, potrebbe essere veramente molto interessante. Spero tanto che mettano la lingua italiana. Italiana. Perché comunque ci starebbe tantissimo. Ci starebbe. Ma vabbè, fatemi sapere che cosa ne pensate. Come al solito mi va via la voce. E ci vediamo alla prossima, sempre qua, su NielsenTV. Ciao, ragazzi.